Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo ad aprire i messi di pokémon che sono 4 da vedere però noi abbiamo scritto allora iniziamo abbiamo lui poi abbiamo lui poi abbiamo lui poi abbiamo lui poi abbiamo lui e qui cosa c'è qua non me l'aspettavo sta roba ok ok primo pochetta da aperto adesso voglio aprire lui allora abbiamo lui lui allenatore aspettate lui 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 rapida regidrago meffrit oh una fiastro mamma mia mamma l'aspettavo anche il secondo pacchetto è andato bene puoi aprire lui sembra vero quante cazzo allora abbiamo lui allenatore lui murkrow noi verne beldum sandile dragonair drumpa 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 poi abbiamo vabbè non lo ricordo abbiamo lui poi abbiamo lui poi abbiamo l'oro poi abbiamo l'oro poi abbiamo un allenatore poi abbiamo un energia all'incontrario abbiamo ci assurance si chiama così charmander poi abbiamo lui poi abbiamo lui dopo che è andato malissimo e vuoi aprire dio Ora è rimasto questo, 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 poi aprire lui, visto che lì ho già visto un sacco di cose, allora abbiamo lui, 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 oh, una ziii, bella. Poi abbiamo a lui, allora, allora, lui, cosa c'è qua, lui, allenatore, oh, non ci posso credere, e cosa c'è, finico, fa che è andato benissimo. Allora, questo è tutto il risultato di queste carte Pokémon, questo, non glielo do a Riccardo, perché se no, lui, me le ruba tutte, sapete lui com'è, è sempre lì a giocare con i Puffazzi. Adesso, adesso, vado. Aaaaaaah!